C'è stato un amico che gli fa l'altro, oh guarda che c'ha un bigliettino nel tergicristalli della macchina, prendilo un po', gli fa l'amico, leggi un po' che c'è scritto, l'amico lo apro e non c'è scritto niente, è tutto bianco, ma è bianco, non c'è scritto un cazzo, no allora è di mia moglie, ma come fai a saperlo? Eh perché sono tre giorni che non c'è parlato.